I ragazzi avevano già manifestato da giorni insieme con le loro famiglie il desiderio di riprendere le attività di didattica in presenza. Quindi abbiamo ripreso al 50% delle presenze giornaliere, così come previsto dai DPCM e come anche concordato con il tavolo del prefetto. E diciamo che la didattica in presenza è sicuramente in questa fase di ripresa, di criticità epidemiologica, è sicuramente una grande sfida, ma una sfida che noi scuola vogliamo assolutamente affrontare e vincere, perché la didattica digitale può avere un valore per un certo periodo di tempo, può essere uno strumento importante, ma è necessario che sia fortemente integrata dalla didattica in presenza. Questo per una formazione di qualità, questo per un apprendimento efficace. E quindi oggi abbiamo ricominciato. Per quanto concerne i laboratori della vostra scuola, professoressa, le cose come stanno andando? Noi non abbiamo mai smesso, neanche durante il periodo della DAD, le attività laboratoriali, perché i laboratori di enogastronomia, di turismo, di pasticceria, i laboratori di alimentazione sono il cuore della nostra formazione. E quindi era necessario, per poter garantire ai nostri ragazzi un apprendimento efficace, continuare con le attività laboratoriali. Proprio in questi minuti gli studenti si stanno sottoponendo agli screening e ai tamponi? Sì, abbiamo allestito presso l'Aula di Scienza e Cultura dell'Alimentazione una postazione dove medici e infermieri dell'ASL stanno effettuando test rapidi nei confronti dei nostri studenti. Procederemo con questi test per l'intera settimana.